Radio Radicale, siamo con Paolo Formentini, vicepresidente della Commissione Esteri, deputato della Lega e presidente del protocollo di collaborazione Camera dei Deputati, Knesset, per parlare con lui di quello che sta succedendo in Medio Oriente, ma anche delle polemiche che ci sono in Italia su come definire quello che è successo. È spiacevole che ci siano verificati alcuni episodi. Lei tra l'altro è della provincia di Brescia, sappiamo tutti quello che è successo a Brescia, ma anche le polemiche che ci sono state in altre città, a Milano, quello che ha detto l'imam di Pisa. Innanzitutto, lei si aspettava dal comune di Brescia quell'atteggiamento di evitare di proiettare la bandiera di Israele, così come hanno fatto a Palazzo Chigi, ha fatto il Senato. Sì, è stato un grande segno di solidarietà di Israele vedere la bandiera di Israele sulla facciata di Palazzo Chigi, proprio appena dopo l'attacco terrorista di Hamas contro Israele il 7 ottobre scorso. Purtroppo così non è successo, per esempio, nella sede del comune di Brescia, dove ci si è rifiutati di esporre la bandiera di Israele, che per noi della Lega è l'unica bandiera della pace, e invece si è esposta una bandiera anonima con scritto pace. Bene, non ci può essere pace se non si difende l'unica democrazia del Medio Oriente, se non si difende il diritto di una democrazia a difendersi contro i terroristi. Almeno il comune di Milano ha esposto sia la bandiera della pace che quella di Israele. Così non è successo a Brescia. Ha sentito anche le parole dell'imam di Pisa, che ha detto che quella palestinese di Hamas è resistenza. Ho sentito tante voci, tra cui anche quella di Patri Zaki. Tutti noi qui alla Camera ci siamo spesi perché fosse liberato, potesse riprendere i propri studi, tornare in Italia. Però con dolore dobbiamo dire che certi giudizi fanno male. Fanno male a quella libertà della quale lui stesso ha potuto usufruire, perché tanti paesi democratici, tante persone innamorate della libertà, hanno combattuto perché lui fosse libero. Bene, lui dovrebbe schierarsi a fianco di Israele e non certo con i terroristi. Allora, che cosa sta succedendo effettivamente sul campo e ritiene che abbia fatto bene Netanyahu ad aprire alle altre forze politiche per allargare la base parlamentare del governo? Sì, Israele oggi ha un nuovo governo, si appresta ad avere un nuovo governo, un governo di emergenza nazionale, di unità nazionale, un governo necessario in un frangente drammatico. Ricordi, anche questa è la situazione più dura che Israele vive fin dalla guerra di indipendenza e quindi davvero non si poteva fare altro che avere un governo in cui tutto Israele si unisce. E Israele è unito. Al di là delle difficoltà quotidiane, politiche, di fronte all'attacco di terroristi che uccidono nel kibbutz di Farazza 40 bambini, non si può non lasciare da parte quelle che sono le divisioni politiche quotidiane e pensare a difendere il proprio paese. Qualcuno oggi sui giornali chiede in qualche modo a Israele di non cadere nella trappola che gli hanno teso l'Iran e i palestinesi di Hamas. Allora, qual è la giusta proporzione per rispondere a questo infamante attacco terroristico? E soprattutto se lei vede una guerra dietro questa cosa, una guerra lunga. Noi siamo abituati a vedere in Medio Oriente storicamente delle guerre che sono durate pochi giorni, una settimana. Qui ci troviamo di fronte a uno scenario diverso a suo modo di vedere? Beh, per la seconda volta in pochi anni vediamo Israele essere attaccato in modo pesante. Ricordiamo pochi anni fa il lancio di razzi, 5.000 razzi contro Israele da parte di Hamas. È successo di nuovo. Le proporzioni sono ben diverse. La Jihad ha fatto un salto di qualità, se così si può dire, e si avvicina sempre più l'operato di Hamas a quello dell'Isis stessa. Quindi la risposta di Israele dovrà essere commisurata, dovrà far sì che Hamas non possa più fare quello che ha fatto, attaccare vittime civili, bambini, donne, uomini, e semplicemente ucciderli perché è ebrei. Questa è la loro unica colpa. Una risposta quindi commisurata, una risposta che dovrà vedere tutte le forze democratiche a sostegno di Israele. Perché è facile sostenere Israele nel giorno dell'attacco di Hamas, è più difficile continuare a sostenerlo, mentre Israele giustamente risponde e si difende. Ci sarà uno sciocco petrolifero e soprattutto pensa che adesso il conflitto tra Russia e Ucraina sarà in secondo piano. E cosa vede nell'atteggiamento della Russia? Beh, partirei da qua, dal fondo. Da una parte c'è Hamas, c'è l'Iran, è molto chiaro, ma non ci sono solo Hamas e l'Iran, ci sono anche quelle potenze come la Russia e la Cina che tragano giovamento dalla situazione attuale. La Russia auspica che l'Occidente divide i propri sforzi tra Ucraina e Israele e quindi sia più debole, sia più facile da così, non sconfiggere ma minare le fondamenta di quel sogno di libertà che l'Occidente stesso rappresenta. Noi dobbiamo essere consapevoli, purtroppo la nostra opinione pubblica è molto confusa, vediamo nelle scuole d'Italia inneggiare non alla Palestina ma a Hamas. E questa forse è la cosa più difficile da accettare, perché da una parte c'è la democrazia e dall'altra ci sono i terroristi. Se perdiamo questi valori comuni, questa identità di visione, l'Occidente muore. Soddisfatto del dibattito parlamentare? Del fatto che almeno un punto di unione tra maggioranza e opposizione su Gaza, sulle misure di Israele nei confronti di Gaza, si sia stato raggiunto, anche se poi il fatto che sono state presentate tre risoluzioni resta sotto gli occhi di tutti? Ecco, proprio questo fatto è un fatto che non doveva succedersi, si sarebbe dovuti arrivare a una risoluzione unitaria sull'informativa del Ministro Tajani sulla situazione attuale. Non ci si è riusciti e perché non ci si è riusciti? Sì, è vero, si è condannato fermamente Hamas, lo hanno fatto tutte le forze politiche italiane e questo è senz'altro un ottimo segno, un ottimo inizio. Più difficile però è riuscire tutti insieme a difendere il diritto di esistere e difendersi di Israele. E qua le sfumature iniziano a vedersi perché non si può, come è stato fatto nella risoluzione del PD, mettere sullo stesso piano gli insidiamenti israeliani e i razzi di Hamas. Chiarissimo, io la ringrazio molto della sua disponibilità come sempre e ringrazio il Vice Presidente della Commissione Esteri, Paolo Formentini della Lega, che è Presidente del protocollo di collaborazione tra Camera dei Deputati e Knesset. Grazie. Grazie.